Si riduce di 150 milioni di euro rispetto al 2018 il patrimonio netto delle società miste del comune di Salerno il cui conto economico chiude con una perdita di oltre 111 milioni di euro. I debiti superano i 583 milioni di cui quasi 400 di natura finanziaria direttamente o indirettamente riferibili al comune mentre 18 milioni sono dichiarati come mancati versamenti di imposte e contributi per i dipendenti. È il dato più grave contenuto nella PEC di denuncia con la quale il gruppo Ali ha scritto al comune di Salerno e ai consiglieri comunali chiedendo loro di fare chiarezza sui conti del comune di Salerno che si appresta nella prossima seduta del consiglio comunale ad approvare la manovra di bilancio. Diteci la verità sui numeri chiede il gruppo civico che fa riferimento all'avvocato Oreste Agosto. Sull'assestamento non c'è molto da dire. Per un documento di previsione costruito a tavolino su aspettative è naturale la quadratura con giusti equilibri. Diversamente non sarebbe approvabile ma neppure proponibile, aggiunge il gruppo. Qualcosa da dire invece c'è però sulla situazione dell'ente con riferimento allo sbilancio negativo di cassa per oltre 44 milioni di euro coperto con il ricorso ad un'anticipazione di liquidità della cassa depositi. Ali pur riconoscendo che è comprensibile lo sconquasso causato dai mancati introiti di entrate legate al contesto e all'emergenza sanitaria da Covid non comprende ed esprime perplessità sull'ipotesi di un aumento dei tributi locali, l'emissione di un ruolo suppletivo tari e l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'ente di beni idoni e possibili utilizzi pubblici. Nei giorni scorsi il gruppo civico ricorda la vendita per 6 milioni di euro della palazzina Ex Sirti eppure non mancherebbero risorse adeguate, si legge nella nota indirezzata ai consiglieri comunali. Inoltre nel consuntivo 2019 dell'ente sono presenti crediti non riscossi per entrati pari ad una cifra astronomica di 254 milioni di euro. L'associazione a questo punto chiede ai consiglieri perché queste somme non vengono incassate o si tratta di semplici numeri messi a gonfiare il saldo dell'avanzo e assicurare così il bilancio contabile. Infine, con quello che è successo, è presumibile, scrive Ali, che i debiti abbiano superato la soglia dei 600 milioni. Questi sono solo alcuni punti di riflessione, ma, conclude il gruppo civico, ci sembrano sufficienti a dimostrare la presenza di pesanti criticità operative, economiche e finanziarie per le casse del Comune di Salerno.